Il mondo dello spettacolo napoletano è stato colpito da una triste notizia. Andrea Iovino, noto attore di 38 anni, è scomparso. La sua morte è stata improvvisa e al momento non sono state divulgate le cause. Andrea Iovino aveva raggiunto una notevole popolarità grazie alla sua partecipazione al programma comico Made in Sud e alla sua presenza in teatro. Lo scorso anno ha preso parte allo spettacolo Masaniello Revolution del cantautore partenopeo Sal Da Vinci, che si è tenuto al teatro Augusteo di Napoli. In ambito cinematografico, è ricordato per il suo ruolo in Pinocchio di Garrone. Le circostanze della sua morte rimangono sconosciute. Andrea era anche il fratello di Giovannino, noto per la sua partecipazione al talent show Tu Sique Vales trasmesso su Canale 5. Sulla sua lapide funebre è stato ricordato come un uomo onesto e giusto. I funerali di Andrea Iovino si sono tenuti lunedì 6 novembre nella sua città natale, Nola. Insieme a suo fratello, Andrea aveva fatto parte della compagnia teatrale Pipariello di Nola. La notizia della sua morte ha suscitato un grande cordoglio sui social media, con molti che hanno ricordato la sua simpatia contagiosa e la sua grande passione per il teatro. La scomparsa di Andrea Iovino è una perdita significativa per il mondo dello spettacolo napoletano e la sua eredità artistica e umana sarà sempre ricordata con affetto e stima. La compagnia Pipariello di Antonio Esposito, alla quale apparteneva, ha espresso la sua gratitudine per le sue qualità umane e artistiche, definendolo un'apertura verso l'eternità.